I carabinieri della compagnia di Agropoli hanno arrestato un 25enne di ascea responsabile di detenzione ai fini di spaccio di cocaina. I militari, durante una serie di controlli, hanno sottoposto a perquisizione personale al giovane, rinvenendo due involucri contenenti circa 12 grammi di stupefacente occultato negli slip. Il ragazzo, su disposizione della procura della Repubblica di Salerno, è stato accompagnato presso la sua casa in regime di arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nel fine settimana, inoltre, i militari della compagnia cilentana hanno segnalato la prefettura di Salerno quali assuntori di stupefacenti, 5 giovani perché trovati in possesso di cocaina durante gli specifici controlli.